Musica E salve a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con GameZane Siamo all'ottavo appuntamento qui con la mappa Ant Farm Dovevamo andare nel Nether Abbiamo appena acceso il portale, me lo ricordo benissimo anche se è passato tanto tempo Dobbiamo andare a fare i primi achievement all'interno del Nether Vi ricordo ragazzi di spollicere, arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio Ma io direi di iniziare subito, 3, 2, 1 Allora eravamo rimasti qui Però io prima, allora intanto queste nuvole ogni volta rompono i coglioni Prima di andare volevo farmi una bella scorta di cibo E noto con piacere che qui c'è il mondo del grano Ok, quindi facciamo così, facciamoci un attimo del grano e ritorno subito Ok, 45 pezzi di grano, mi sono venuti un bel po' di panini Ok, questo lo posso qui, questo lo posso qui Mi porto la cobblestone, perfetto, mi sa che non devo fare nient'altro Ok, l'ossidiana la possiamo anche lasciare Il ferro adesso lo mettiamo a cuocere Non ci resta che andare su, anzi no, aspetta No, 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 non ci siamo, non ci siamo Aspetta un secondo Io prima devo fare così Io non mi fido ragazzi, non mi fido E quindi devo fare in questa maniera Allora, metto qui tutto Metto qui tutto Mi porto solamente delle torce Mi levo l'armatura A proposito, adesso devo farmi l'altra armatura Non c'ho più niente E una spada di Un piccone di legno Cioè di legno, di pietra E anche una spada che adesso mi vado subito a fare Sicuramente ce l'avrò nell'altra ceste Ma mi rompo a guardare Quindi la faccio E anche Dei meloni Dei meloni, tanto per dire che rimarremo in vita poco Proprio così Ok, andiamo Vai Vediamo cosa ci aspetta dall'altra parte Ok Siamo Comunque dentro un cubo E c'è tanta lava E io come faccio ad andare Lì Ah Che bello Non ho neanche i materiali Mi sa che dobbiamo Tornare E prenderci i materiali Sì Ok, quindi eravamo rimasti qui Allora L'istinto mi dice prima di andare sopra Perché ci sono dei pigmen Però la curiosità Mi dice che devo andare di qua Vediamo Che ci trovo di qua Allora intanto devo riuscire a tappare la lava Ma forse è troppo in alto Ok, io salgo Ok, io salgo Vediamo Ho timore di cosa Posso trovare Allora, qui ci sono degli spawner pure No, se esce la lava sono morto Ma no così Tantissimo morto No, aspetta 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 Devo farmi una stradina Per eventualmente scappare E una stradina Per salire Così E così Ok Oh Guardali che carini Ah, lì Ok Qui c'è uno spawner Devo Bypassarlo Ma non mi fido mai del mio shift Oh cazzo Mamma mia Mi ero cagato addosso Ok Così non devo usare lo shift Oh cazzo No, ti prego non salire Ok Lì c'è lo spawner Via Ok Ora dobbiamo salire sopra Perfetto Aspetta Minchia ho paura Che quella cacchio di cosa Si sposta Ok Allora Calmi E sangue freddo Intanto Tappa sta lava Anzi a proposito Mentre ci sono Mi tappo anche l'altra Così Levo ogni rottura di palle Ok Perfetto Così posso salire Indisturbato Senza Nessuna problematica Ok Qui c'è un altro tizio Ciao tizio Un Lago di lava Un lago di lava Non ti avvicinare Tu Allora Che cazzo Non venite a picchiarmi Vi prego No 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 Ti picchio malamente Te lo giuro Giuro che ti picchio malamente Ma che fanno Si picchiano tra loro Non l'ho ancora capito Spacco quest'altro spawner Ok Ma una torcina Gliela piazzo qua Ma Il nether Giusto Nel nether Non ci sono I Come si chiamano I I schiedi del Wither I blades Dove sono tutti questi tizi Io ho timore Io ho timore E devo tappare Tutte le possibili Cose che mi fanno morire Oh Bello Bello Ho beccato lo spawner Dei ghast Ecco Mi ero dimenticato loro Ah ok Forse Ok Una chip Menterà Di trovare La glowstone E farla Quindi Mi sa che L'abbiamo appena fatto Ok anzi La faccio adesso Ne faccio due Per sicurezza Perfetto Le ho fatte Quindi le potrei anche usare Come fonte di luce Ma al momento Non mi interessa Allora Se noi andiamo lì Quel tizio ci picchia male No Guarda che c'è la di spawner Ma quelli sono pigmen O sono Tizi brutti Eh ma Non lo so Io non lo so Non so neanche se Voglio saperlo Sì però Io là come ci arrivo Io il tempo che comincio a mettere La cobblestone Quei tizio Mi picchia male Dobbiamo pararci E nel frattempo Scendere Quindi Così Puoi scendere piano piano Fra un po' si attiverà Quel cacchio di spawner Così No eccolo 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 Porca troia Vieni qua Spara No cazzo No 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 Non posso morire Non posso morire qua Non posso morire qua Non posso morire qua No 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 ti prego No Non posso morire là cazzo Devo andarmi a riprendere le cose No va bene No va bene Allora Dobbiamo rifarci l'equipaggiamento Pensavo fosse più semplice Cazzo Allora Mi prendo Una spada Mi prendo Un po' di cibo Mi prendo Tanta Tanta Cobblestone E torniamo là Dobbiamo riprenderci tutto ragazzi Dobbiamo riprenderci tutto Non posso perdere tutte le cose Ora Devo ritrovare quel cacchio di punto Perfetto Allora Di certo era qui Però noi siamo saliti Con un cazzo di pillar Quindi Stavolta però Anzi Aspetta che levo anche sta lava Perché già mi ha rotto Ok Già mi hai rotto lava Tappa E vai a fare in culo Perfetto Ah guarda dove è uno spawner Ok lo spawner lo spacchiamo dopo In questo momento Non me ne fotte un cacchio Ma io mi ammazzo così No non posso morire Devo rientrare subito Via Ok No ma qui è chiuso No cacchio Devo spaccarla a mano Nede racca a mano Nede racca a mano Ok perfetto Perfetto Ripreso tutto Non è successo niente Ragazzi fate finta che non avete visto niente Ok Tu non hai visto niente Ok mi sono messo tutta la cobblestone Nell'inventario rapido Perché devo riuscire a farmi Una barriera come si deve Perché questa non mi protegge Un cazzo Non vorrei che shift Cedesse all'improvviso Perché In 80 lingue bestemmio No 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 Hai capito che suol dire no? Ho detto no Ho detto no grazie Non compro niente Dai che mi metto in punta Aspadate aspadate No devi morirci Aspetta Aspetta Dove stai andando tu? Dove è andato? No eccolo qui Beccato Vieni qua stronzo No Dove cazzo stai andando? No 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 Ma io ci muoio male io Questa è la serie No no minchia Poi l'altro spawn Questa è la puntata in cui io devo morirci male Io lo so Io lo so Beccalo Boom Meno uno E l'altro dov'è scusa? Eccolo là No 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 Ok 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 Metti Metti quel cubetto Porca puttana No 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 Bastardo E qua spara Spara Succhia merda Succhia No Porca droga Minchia non mi fanno fare niente questi due Forse farli spawnare è stata una cattiva idea Ok Eccolo 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 Morici 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 perfetto Un altro è morto No 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 Non spawnare Non spawnare Aspetta aspetta Non spawnare Ed eccolo lì Morto Dai 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 Ok 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 Dai che sta barriera sta Si sta creando bene Dai che ce l'ho quasi fatta Dai che ce l'ho quasi fatta Devo solo spaccare Quello spawner Mirko Ma devi solo spaccare Non è facile lo so Ma devi riuscirci Se non mi vede non mi picchia No cazzate Minchia Cazzate Cazzate incredibili Dov'è? Eccolo là Dai spara Spara Dai che ti becco Sto zoia Minchia quanti ce n'è Aspetta che te ti ammazzo Male Ok Devo riuscire A farmi La stradina Che non so come fare Però ok Ok Aspetta 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 Ok Non so come ho fatto Ma qualcosa ho fatto Perfetto Ok Dobbiamo arrivare a quello spawner Furtivamente No Questo non è furtivamente Mirko Minchia poi ne sono spawnati Due milioni Ci arriva? Si ci arriva Ho fatto Via 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 Ok Adesso ne rimangono solo 18 Da ammazzare Ehm Ok No 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 Sto scherzando io Gast Tranquillo Io sono un tuo estimatore Un tuo fan Ma devi morire Ed andare a fangulo Devi Morire Ok Bravissimo Hai fatto bene a morire Hai fatto bene a morire Ok Adesso Devo Magicamente Fare Tipo Così Aspetta Nel frattempo Vi faccio un collegamento Qua No 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 Ma ho sentito Blaze No Pigment Devi levare Non riesco a mettere Il blocco Per favore Pigment Per favore Pigment Bravissimo Ok Io devo arrivare dall'altro lato Ma c'è questa cacchio di lava Come faccio La tappo La tappo Anche lì Non so che devo fare Come Cazzo devo fare A tappare questa lava Scusami Bravissimo No 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 Porca troia Porca troia Come ho rischiato Pigment Ti devi levare dai coglioni Sì E l'ho spinto verso di là Bravo Intelligentone Facciamo Tipo così No 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 Porca troia È un problema fare sta cosa No non si può fare Ok Stavo scherzando Siamo in una cazzo di fase di stallo Devo ammazzare sti cosi Non so più cosa fare Va bene ragazzi Come al solito vi saluto Vi ringrazio per aver visto questo nuovo video Vi ricordo come sempre di arrivare a 100 mi piace per il prossimo episodio Ci vediamo al prossimo appuntamento Sempre qui Con Zane Ciao Ciao